ciao ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video probabilmente chi mi segue su instagram l'aveva intuito perché avevo messo la storia qualche giorno fa che oggi voglio parlarvi di un libro che ho appena finito di leggere ed è io sono l'abisso di donato carrisi questo libro qui è nuovissimo è uscito il 23 novembre del 2020 e dal momento in cui è uscito io ho cercato di non pensarci perché comunque a casa avevo già un po di libri suoi che purtroppo non ero ancora non sono ancora tuttora riuscita a leggere e quindi mi ero detta datti un attimo una calmatina leggi prima gli altri e poi ti prendi questo quando però due settimane fa circa sono andata in libreria e l'ho visto nella sezione delle novità ho deciso di prenderlo e di leggere prima questo rispetto magari ad altri che sono già usciti da un po allora non è un video diciamo semplice l'ho già provato tante volte ho già provato a farlo un po di volte a girarlo un po di volte ma è come se tipo ricadessi nel banale e siccome per me donato carrisi è uno veramente dei miei scrittori preferiti io non vorrei cadere nel banale e per quello ho cercato di migliorare come posso allora direi di partire subito genere è un romanzo un romanzo thriller a mio modestissimo parere potrebbe anche essere un po psicologico c'è dentro secondo me un po di psicologia nei vari personaggi sicuramente non possiamo paragonarlo a un libro della grandezza del suggeritore che ricordiamo è stato il romanzo desordio di donato carrisi secondo me il suggeritore è un libro in cui tu hai praticamente ogni capitolo un colpo di scena non hai mai fiato non riprendi mai fiato nella lettura tu continui ad andare avanti e continui a pensare caspita non ho capito niente devo andare avanti perché non so come potrebbe andare a finire questo ha una scrittura un po più lineare secondo me ok abbiamo sempre però la presenza di storie nelle storie va bene quindi abbiamo delle storie parallele delle storie all'interno del libro che magari passano da un capitolo all'altro da persona a persona che generano questo diciamo in questa specie di contorno questa specie di insieme di storie che poi tutto confluisce alla fine negli ultimi capitoli in cui praticamente abbiamo la soluzione del tutto il di tutto il libro sicuramente come temi presenti all'interno del libro abbiamo la violenza che fa da padrone abbiamo però diverse sfaccettature della violenza abbiamo la violenza sulle donne la violenza domestica che può essere anche la violenza magari sul bambino sui bambini e la vediamo praticamente ripetuta veramente in tutto il libro ce la portiamo dietro dall'inizio alla fine il primo capitolo vi dico proprio una cosa del primo capitolo poi basta si apre con questa com'è che si dice com'è che posso dire questa scena di questa donna vera che porta il suo bambino il suo figlio in una piscina per farlo imparare a nuotare e nelle prime righe potrebbe sembrare una scena normale però già andando avanti comunque si delineano i temi o comunque le caratteristiche che faranno veramente da da palcoscenico a tutto il libro i personaggi allora i personaggi ce ne sono un po all'interno del libro però possiamo dire che i principali siano tre e sono gli unici tre che non hanno nome all'interno del libro non abbiamo il il nome vero del dei vari personaggi vengono descritti vengono comunque nominati tramite epiteti e questo perché secondo me lo scrittore vuole alienare queste persone vuole fare in modo che non vengano considerate come persone ma come appunto gli epiteti che a loro vengono affidati c'è l'uomo che puliva che è il personaggio diciamo principale che è effettivamente un uomo che fa lo spazzino ok che raccoglie i rifiuti e ha una mentalità disturbata quindi veramente tanti problemi all'inizio non viene visto come una persona ok all'interno del libro non genera assolutamente compassione nel lettore sempre secondo me andando avanti nel libro e quindi conoscendo la sua storia si potrebbe essere portati ad avere un po più compassione verso di lui un altro personaggio è la ragazza dal ciuffo viola col ciuffo viola che è praticamente una ragazzina che dall'esterno potrebbe essere definita come una ragazzina che ha tutto però lei non si sente di avere tutto e per essere felice per avere un briciolo di felicità in più comincia a fare delle diciamo delle scelte che la porteranno poi a doverci convivere perché non sarà più in grado di tornare indietro dalla situazione che si è creata intorno a lei abbiamo poi il terzo personaggio che è la cacciatrice di mosche che è una donna che avendo combattuto con alcuni fantasmi del passato si ritrova a vivere una vita potremmo dire a metà ok e questi tre personaggi sono i personaggi principali all'interno del libro a cui poi fanno da contorno altri altri personaggi non ci sono solo loro i tre però principali e che non hanno nome sono loro tre come libro a me è piaciuto tantissimo veramente è un libro che ho letto e mi sono appassionata dall'inizio alla fine come tutti gli altri libri di carrisi che ho letto è un libro che ti prende dalla prima pagina e tu non vorresti fare nient'altro se non leggere per vedere come la storia va a finire l'unica cosa che mi ha lasciato un po diciamo con l'amaro in bocca è stato il finale non perché sia stato privo di colpi di scena è questo no è stato veramente un finale che mi ha lasciato un po a bocca aperta però è stata un po una conclusione secondo me abbastanza affrettata ci si sarebbe magari potuti dilungare un po di più magari apprendo delle delle conversazioni o comunque descrivendo un po di più determinati personaggi determinati collegamenti tra i vari personaggi però ripeto il colpo di scena c'è ed è secondo me bellissimo mi ha portato ovviamente a fare degli spunti di riflessione perché avendo narrando comunque parlando di temi così importanti è normale che uno si faccia un paio di domande e quindi io vorrei lasciarvi vorrei finire questa recensione di questo libro con un paio di frasi che ho trovato all'interno del libro e che secondo me lo descrivono appieno la prima è il male è un cerchio ok e quindi anche qua non non ve la voglio spiegare perché se leggete se leggerete il libro capirete di che cosa sto parlando e la seconda frase che è anche una domanda è ma mostri alla fine si nasce o si diventa grazie a tutti